Buonasera, buonasera a voi. Voglio partire dall'intervista al Presidente Merito della Corte Costituzionale, Annibale Marini, il quale ha mosso molti appunti al Primo Ministro Giuseppe Conte Reo, secondo lui, di non aver applicato correttamente la Costituzione, in particolare per quanto riguarda la limitazione della nostra libertà, per quanto riguarda la scadenza dei DPCM, per quanto riguarda la intromissione nelle regioni, per quanto riguarda il limite dell'emergenza posta al 31 luglio, per quanto riguarda l'ultimo intervento fatta alla Santilli, Presidente della Calabria. Come vedete ce n'è in abbondanza. Ora io non sono entrato nel merito delle questioni che ha descritto il Presidente Merito a Annibale Marini, ma potrete trovare l'intervista su Anacronos su internet. Ora però avete visto che realmente è un quadro che così ci lascia abbastanza sgomenti e anche sgomenti è il fatto che il Presidente Sergio Mattarella non sia minimamente intervenuto per quanto riguarda queste questioni. Ora oltre quindi al non rispetto della Costituzione ci sono anche le inadeguate soluzioni trovate all'emergenza ed ora all'emergenza che invece colpisce gli italiani sull'aspetto di carattere economico. E quindi credo di poter dire che su una cosa siamo tutti d'accordo, che sarebbe davvero il caso riuscire a mandare a casa questo governo di incapaci, di inadeguati. Ora però esiste una situazione particolare. È notizia di oggi che è stato spostata l'emergenza al 31 di dicembre. Voi sapete che in questa circostanza nell'emergenza il Ministro Conte è nella condizione di emanare decreti a suo piacimento e quindi di continuare a fare danni al Paese. Anche perché l'opposizione in qualche maniera in una situazione simile alle mani legate. Voi guardate anche la manifestazione che è stata indetta il 2 di giugno a Roma. Non entro nel merito della questione che ho affrontato nelle ultime 48 ore, che è una cosa che io ho aspramente criticato, una cosa assolutamente non condivisibile, una cosa sbagliata, una cosa scorretta, perché loro, Salvini e Meloni, sapevano e sanno perfettamente che quella piazza era già stata prenotata tempo fa dal generale Antonio Papalardo. Ma io non voglio entrare in questa questione che ho affrontato appunto nelle ultime 48 ore. In questo caso mi interessa concentrarmi sul fatto che oggi Matteo Salvini ha dovuto intervenire dicendo che la manifestazione si potrà svolgere solamente nella regione Lazio perché fino al giorno dopo ci sarà il divieto di circolare da una regione all'altra. A me hanno sempre insegnato che in democrazia contano i numeri e quindi voi potete capire che una manifestazione indetta da parte di un partito come la Lega, il partito di maggioranza dell'opposizione in una sola regione, è un qualcosa che insomma ci fa sorridere perché non siamo a una elezione regionale del presidente come in Emilia o come è stato in Umbria nell'ultimo mese, ma è un qualcosa che riguarda la nazione, un momento drammatico e quindi la cosa chiaramente non potrà produrre effetti. Così come noi sappiamo perfettamente che questo governo è talmente incollato alla poltrona che è riuscito a fare delle cose inimmaginabili. Quest'estate mettendosi insieme PD e 5 Stelle che se le erano dette di tutte fino a 24 ore prima, tanto che Salvini da questo punto di vista diciamo che è caduto un po' in inganno perché mai si poteva aspettare una cosa del genere, perché ora al contrario ci sarebbe al governo ancora il governo con Salvini. Ora però questo è appunto il passato. Il problema risiede nel fatto che questo governo così come siamo messi in questo momento ha molte possibilità di arrivare alla fine della legislazione che sarebbe una sciagura per il nostro paese e soprattutto vorrebbe dire che sarebbero nella condizione un'altra volta di eleggere un presidente della Repubblica comunista e questo chiaramente è per noi popolo del centro-destra inaccettabile. Ora esiste solo solo un uomo che ha alzato la mano e ha detto io in nome della patria, in nome del popolo sovrano scendo, scendo in piazza, scendo in campo e questo si chiama Antonio Papalardo, il generale Antonio Papalardo. Ora guardate io però mi sono anche un po' stufato, io ve lo dico, io mi sono anche un po' stufato di critiche che veramente lasciano il tempo che trovano. Allora io non sto dicendo che non sono pertinenti perché la critica è sempre giusta fatta nei limiti della correttezza ma è inaccettabile nel momento che una critica è sufficiente per non intervenire in questo drammatico momento vicino ai propri fratelli italiani a scendere in piazza a manifestare. Cioè capite io non posso accettare che qualcuno mi dica ma sì però Papalardo ha delle idee che non condivido, però Papalardo ha avuto degli atteggiamenti, degli interventi che non ho condiviso. Anzi a questo proposito qualcuno ad esempio mi ha detto che sarebbe giusto che io dicessi la mia per quanto riguarda l'intervento di qualche tempo fa la posizione del generale Antonio Papalardo sulla Diciotti dove chiaramente si è espresso contro Salvini. Ora guardate che io a 62 anni voi pensate che io non abbia la possibilità perché non è poi un fatto di coraggio perché non ci vuole coraggio ci vuole forse un pizzico di personalità. Voi pensate che io non possa dire quello che è il mio pensiero e non possa anche dire in questa circostanza che non mi trovo d'accordo col generale Antonio Papalardo. Io ho una visione diversa di quella faccenda quindi non condivido il suo punto di vista e non ho alcun problema e mi auguro chiaramente vivamente che non l'abbia neanche lui perché se così fosse sarebbe un suo problema. Ma ripeto per quel poco che conosco il generale Papalardo non credo davvero perché vedete in democrazia confrontarsi anche talvolta avendo idee diverse è una cosa che io dico sempre è sana e al contrario pensare sempre che i propri leader politici siano i migliori siano i più bravi i più profumati è un atteggiamento malato. Ora ci sono però i punti sui quali noi possiamo e siamo d'accordo con i punti elencati nel suo programma dal generale Antonio Papalardo che tra l'altro sono oltre 70 e mi stupirei se qualcuno fosse d'accordo su tutti 70 punti però stavo dicendo che ce ne sono in particolari alcuni assolutamente condivisibili. Uno che anche lui vuole spazzare via questo governo poi lui aggiunge tutto il Parlamento perché ritiene e ritiene a ragione che siano stati eletti con una legge elettorale anticostituzionale. Vedremo l'iter che farà questa azione però resta il fatto che questo governo dovrà andarsene a casa che è esattamente il pensiero che ha sempre avuto in questi ultimi mesi il popolo del centro-destra. Seconda questione la nostra libertà. Guardate che il generale Papalardo ha più volte avuto modo di sottolineare quanto sia grave la limitazione della nostra libertà. Ma io vi dico un'altra cosa quanto sia grave che uno come Zingaretti imponga ai propri concittadini, ai propri corregionali over 65 e alle categorie a rischio come i sanitari li obblighi a vaccinarsi. Una cosa abominevole in un paese democratico e che probabilmente voglia estendere questo a tutto il paese. Anche il generale è contro chiaramente questo tipo di intervento così come ritiene che dobbiamo uscire dall'Europa perché da questa Europa non abbiamo avuto nulla e credo che tutti quanti siamo d'accordo. quindi cioè cosa serve ancora per capire che questo è il momento di scendere in piazza tutti insieme che è fondamentale perché in democrazia contano i numeri. Io faccio un appello ai miei amici della Lega, ai miei amici dei fratelli d'Italia, venite in piazza con noi dei gilet arancioni perché vedete adesso così mi viene in mente un esempio che forse non sarà calzante non lo so ma lo voglio fare perché mi è venuto in mente. Ora noi molto spesso quando nello sport gioca l'Italia siamo capaci di metterci la maglietta azzurra e poi quando la nazionale ha giocato il mondiale o l'europeo ognuno torna nelle proprie squadre ci litighiamo ci confrontiamo ce ne diciamo di ogni pensatela in questa circostanza alla stessa maniera anzi ancora più importante perché la nostra vita mettiamo la maglietta della nazionale italiana in questo caso invece di essere azzurra sarà arancione e quando poi saremo stati in piazza per chiedere quello che tutti quanti vogliamo dal 3 di giugno ognuno potrà tornare alla propria squadra però finiamola col dire non vengo perché così perché colà perché lui ha fatto questo perché lui ha questo pensiero riflettete è un momento importante per l'Italia l'unica chance è di dare una forte spallata una spallettina non serve a nulla questi sono inchiodati sulla sedia bisogna schiodarli dobbiamo essere in tanti e magari questa azione dovremmo anche ripeterla nel tempo non lo so sta di fatto che in questa circostanza non dobbiamo dividerci e io attenzione attenzione sto parlando di popolo diverso sono i partiti diverso e sono i vertici dei movimenti è un'altra storia sono i partiti nessuno ce lo vieta non è necessario che due leader politici o un leader politico è un leader di un movimento si amino o siano d'accordo in questo caso ci sono delle cose condivisibili e quindi tutto il popolo deve scendere insieme a manifestare questo è il mio pensiero con questo io vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani